Martina Caironi, atleta paralimpica pluricampionessa, nasce ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergabo, il 13 settembre del 1989. Il novembre del 2007 è rimasta coinvolta in un incidente stradale che le ha causato l'amputazione della gamba sinistra all'attezza del femore. A Budrio, in provincia di Bologna, in un centro specializzato nella costruzione delle protesi, Martina riceve la sua prima protesi per correre. Nel giro di poco tempo diventa una promessa dell'atletica leggera paralimpica, categoria T42, conquistando prima il titolo italiano nel 2010 e quello mondiale nel 2011. Nel 2012 partecipa la sua prima paralimpiade, quella di Londra, portando a casa la medaglia d'oro nei 100 metri. Da 2012 è parte delle Fiamme Gialle, il gruppo sportivo della Guardia di Finanza, e con quella maglia in mondiale di Lione 2013 vince e conquista il primo gradino del podio, sia nella sua specialità, sia nel salto in lungo. Il 2015, per Martina Caironi, è l'anno dei record. Vince ancora. Il 2016 le fa subito un bel regalo. Grazie all'effetto di tutti i colori che la seguono, Martina si aggiudica il premio atleta paralimpico dell'anno 2015 a Gazzetta Sport Award. Inoltre, ai campionati europei di Grosetto 2016 conquista ben due medaglie.